Un breve riassunto della stagione regolare testè consegnata agli archivi prima dei playoff. Tanti equivoci nella costruzione della rosa in tutti i reparti, specie in mediana. A gennaio i rimedi, gli aggiustamenti più funzionali al 3-4-3 marchio di fabbrica di Gaetano Auteri, che però ha commesso l'errore di snaturarsi passando un sistema di gioco, il 4-3-3, senza vere mezziali di ruolo. Una cosa è sin troppo chiara, Auteri non ha mai inciso, tante troppe le lacune nella fase di non possesso, in generale nell'organizzazione difensiva, troppo poco tempo per giudicare il lavoro di Luciano Zauri. Di certo la squadra si macchia di omissioni più o meno gravi che sono le stesse di inizio torneo. Ingiustificato poi l'atteggiamento molle di sabato, 11 senza garra mentalmente sconnesso, era la partita più importante, la quarta posizione da blindare, il campo ha detto invece quinto posto. Non è esattamente la stessa cosa, vincendo infatti il Delfino avrebbe chiuso la stagione regolare a quota a 67 punti, con la certezza, dopo aver superato naturalmente il secondo turno, di essere testa di serie alla prima gara nazionale dei play-off, ottavi di finale, come migliore squadra della fase a girone, in virtù dei punti conquistati, 67, con vantaggi tutt'altro che trascurabili. Le teste di serie infatti non si scontrano, giocano il ritorno in casa e passano il turno in caso di parità complessiva dopo 180 minuti. Una prospettiva decisamente diversa da quella attuale. Adesso la possibilità di diventare testa di serie è altamente improbabile. Il Pescara infatti dovrà superare i primi due turni di girone e sperare che vengano eliminate Entella e Avellino, classificatesi al quarto posto nei gironi B e C. Il Renate, quarta del girone A, sarà invece di diritto testa di serie ai play-off nazionali. Ora invece si parte dal primo turno. Gara secca all'Adriatico, con due risultati su tre a disposizione, niente supplementari. La Carrarese è la prima avversaria della fase a girone. Disastroso il trend esterno dei toscani, degli ex Berardocco, Giannetti e Dumbià. Appena 11 punti in 19 gare. Una vittoria, 8 pareggi e ben 10 K.O. Fuori casa il peggiore rendimento del girone, al pari di Fermana e Grosseto. Non solo, lontano dal pubblico amico, la squadra di Totò di Natale ha realizzato appena 9 gol. 13 delle 19 partite disputate in trasferta.